Da oggi lunedì 8 marzo la campagna torna in zona rossa, proprio come un anno esatto dal primo DPCM che portò al lockdown l'Italia intera. La notizia era prevedibile poiché il numero dei positivi sale di giorno in giorno e il monitoraggio settimanale condotto dall'Istituto Superiore di Sanità col Ministero della Salute hanno confermato quanto era nell'aria. La situazione epidemiologica invece di arrestarsi continua a galoppare. Se un anno fa durante la prima ondata di contagi ci siamo trovati davanti a un virus di cui non sapevamo nulla, quest'anno ci troviamo davanti alla diffusione delle varianti che ci colgono ancora una volta alla sprovvista. Non è cambiato molto rispetto a 12 mesi fa, sicuramente abbiamo maggiori consapevolezze ma le paure e le incertezze restano delle costanti con cui ancora facciamo fatica a convivere. Il passaggio in zona rossa determina misure più rigide, divieti e regole ben precise con l'obiettivo di arginare il contagio e contrastare le varianti Covid. Come un anno fa in zona rossa non è consentito spostarsi anche all'interno del proprio comune ma si può solo per motivi di lavoro, urgenza o salute e occorre l'autocertificazione. Non è consentito inoltre in base al nuovo DPCM Draghi far visita ad amici e parenti né fuori dal proprio comune né all'interno di esso. È vietato spostarsi verso le seconde case ma è consentito il rientro. Bar e ristoranti sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. I negozi in zona rossa sono chiusi e restano aperte solo farmacie e punti vendita di beni di prima necessità. Musei chiusi, parrucchieri, barbieri e centri estetici chiusi. È consentita l'attività motoria in prossimità della propria abitazione e con l'obbligo di indossare la mascherina. L'attività sportiva è permessa solo in forma individuale. Con una buona dose di buonsenso insieme alle regole che ormai da un anno dovremmo aver imparato tutti, distanza, mascherina, igiene e delle mani, dobbiamo attendere il vaccino e sperare di uscire da questo tunnel che ha preso con sé la nostra quotidianità e normalità, le stesse che sembravano spesso noiose o difficili, ora sembrano così lontane e prive di tutto ciò per cui l'uomo, come la nostra storia insegna, ha sempre lottato. La libertà.